Paolucci sta lavorando per la coalizione Abruzzo Insieme. D'Ambrosio, qual è la collocazione del partito socialista in Abruzzo? Noi condividiamo Abruzzo Insieme e riteniamo che sia un'alleanza ampia, larga, che possa battere il governo delle destre. Certo, dobbiamo condividere un programma, ma soprattutto scegliere insieme un candidato presidente che sia un valore aggiunto rispetto alla forza dei partiti, che altrimenti da soli sono deboli. Quali sono i temi più stringenti, le priorità? Eh, ma la priorità di Abruzzo deve uscire innanzitutto, ricreare una rete di infrastrutture che è importante, importante per lo sviluppo, importante per attrarre, se vogliamo parlare di turismo, anche le grandi aziende. Ma dobbiamo anche riequilibrare la sanità, che oggi c'è una sanità in cui i tempi di attesa sono esageratamente lunghi. C'è il discorso dei giovani, purtroppo sono tanti coloro che studiano, sono dei cervelli. Le lavorate con centri di cellode sono costrette ad emigrare in altre regioni. Se sono fortunato oppure fuori dall'Italia e nel resto dell'Europa, c'è il tema poi del commercio e del turismo. Sono tante tematiche, ma soprattutto le infrastrutture. Noi siamo isolati, siamo fuori dal corridoio Adriatico e siamo fuori dalla linea ferroviaria Roma-Pescara e queste sono tematiche importanti e fondamentali per il nostro sviluppo. Maraio, recuperare una solida credibilità nell'elettorato, in che modo? Ma è doveroso. Noi veniamo da una serie di sconfitte come centrosinistra che hanno portato ad una serie di vittorie del centrodestra, tanto per meriti loro quanto per demeriti nostri. Il nostro impegno deve essere quello di rimettere in campo una coalizione credibile. Abbiamo un anno di tempo. Europee, elezioni comunali, oltre 100 soltanto in Abruzzo, comuni che andranno al voto, più le provinciali si passa alla riforma, più le regionali di Abruzzo e altre regioni d'Italia, diventano un banco di prova importante dove però il centrosinistra deve dimostrare di essere credibile e di essere competitivo. Devo dire che in Abruzzo è irripetibile l'occasione perché sarà facile la campagna elettorale denunciando quello che l'attuale governo di centrodestra non ha fatto per l'Abruzzo in termini infrastrutturali, di lavoro, di occupazione, di scuola, di formazione, in tutti i settori di trasporti, infrastrutture, tutte cose nelle quali noi possiamo affondare il colpo ed essere credibili però nello stesso tempo ponendo in contrapposizione una visione strategica di sviluppo per l'Abruzzo in un contesto dinamico dell'intero sud del quale l'Abruzzo ovviamente è regione autorevole e che diventa un'occasione per il futuro in risposta per esempio all'autonomia differenziata che il governo di centrodestra sostiene. Grazie. 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 Grazie.